Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi dedicata alla presenza ieri a Gera dell'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro che nel corso di un'iniziativa presentata al suo ultimo libro Cuffaro ha parlato della sua detenzione in carcere ribadendo di non avere mai favorito la mafia. Vediamo. L'uomo è un mendicante che crede di essere un re. È il titolo del libro scritto in carcere dall'ex presidente della regione sicilia Totò Cuffaro presentato ieri al Teatro Eschilo nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla libreria Mondadori. Cuffaro ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a scrivere il lassaggio. Nello stesso momento in cui le porte del carcere si chiudevano nelle mie spalle ho capito che era cambiata la mia vita ma che era cambiato l'uomo nel senso che da uomo ero diventato totapig che è una metafora ma dà il senso di come oggi lo Stato prima e poi purtroppo anche la società considera i detenuti. considera che siano dei corpi. Sino a quando lo Stato e la società non riuscirà a capire che il carcere non contiene dei corpi ma dentro ci sono delle anime io credo che sarà difficile risolvere il problema di umanizzare le nostre carceri. Io mi sono convinto che la politica non farà nulla sino a quando questo grido di umanità non venga dalla società. Cuffaro ha detto di avere commesso tanti errori nella sua vita ma mai quello di avere favorito la mafia. Ho la certezza di non aver mai voluto favorire la mafia, di questo ne ho l'intima convinzione culturale prima che giudiziaria. Non credo che ci sia stata una volontà specifica nel colpirmi da parte della magistratura. Credo che purtroppo ci sono state delle condizioni diverse che intorno a me durante tutto il tempo mi abbiano voluto dipingere probabilmente in una maniera totalmente diversa qual è il mio carattere, qual è la mia storia, qual è la mia vita. Poi un breve accenno alla politica. Quelli che votavano per me adesso votano tutti i partiti ma la maggior parte di quelli adesso vota il PD se non altro perché è il PD che prende i voti che prima prendevo io. In Sicilia come altrove la classe dirigente si sposta insieme ai voti. Questa politica è ipocrita perché questa politica non ha il coraggio di prendersi le sue responsabilità e di dire all'interno e fuori dei partiti quello che pensa e quello che vuole. Aspetta che ci sia qualcuno che lo dica per montare una polemica. Mi dispiace che qualcuno abbia voluto vederci una retrospettiva che non c'è, vi assicuro che non c'è soprattutto che qualcuno pensi che io voglia tornare in politica perché l'unica cosa certa è che non farò. Le chiedo il giudizio sull'attuale governatore Crocetta. Non parlo più di politica. Cuffaro parla anche del suo futuro. Il 30 maggio vado in Burundi a fare il medico volontario nell'ospedale che da presente della regione avevo costruito, avevo fatto costruire con i soldi la solidarietà internazionale. Sarò sei mesi in Africa a organizzare quell'ospedale e a tentare di portare un pezzo di umanità siciliana in un posto dove credo ce ne sia di bisogno. Ieri è intervenuta anche Rita Bernardini, già presidente dei radicali. Si è parlato del sistema carcerario in Italia. Sentiamo. Io l'ho conosciuto per la prima volta in carcere perché da deputata radicale nella scorsa legislatura ho girato tutte le carceri italiane ma in particolare a Rebibbia ci sono andata più volte con Marco Pannella proprio per incontrare Totò Cuffaro e la sua esperienza di detenzione gli hanno fatto fare tutti e cinque gli anni della condanna senza avere un beneficio cosa che danno a tutti gli altri detenuti e lui li ha fatti con una dignità che veramente è d'esempio e in carcere lui è stato capace di aiutare tantissimi detenuti quindi una persona straordinaria. Io poi ho avuto anche il piacere di assistere ad alcune conversazioni tra Marco Pannella e Totò Cuffaro dove parlavano pensate di religiosità perché in modo diverso però hanno un rapporto profondo di persone che riescono a scavare dentro se stesse. Numerose le ispezioni da lei effettuate nelle carceri italiane le chiedo ma il carcere rieduca? Mi permetto di fare un esempio in Italia abbiamo un solo carcere che corrisponde ai criteri della nostra Costituzione si trova a Milano a Bollate in quel carcere chi ha la fortuna di andarci si registra una recidiva cioè un ritorno poi a delinquere intorno al 10%. In tutte le altre strutture penitenziarie italiane la recidiva è dell'85%. Questo che cosa vuol dire? Che se il carcere corrisponde ai criteri di rieducazione previsti dalla nostra Costituzione ha l'efficacia ma cosa è veramente importante? Sono le pene alternative. Il problema è che il detenuto è abbandonato a se stesso in condizioni a volte che tolgono la dignità alla persona detenuta e in carcere si incattivisce anziché progredire e quando esce è pronto a ritornare alla sua vita anche perché non gli vengono date alternative e possibilità. Blackout scongiurato per domani nel centro storico di Gela. Gli interventi dell'Enel che avrebbero lasciato l'utenza di quella popolosa frazione urbana senza energia elettrica sono stati rinviati a lunedì prossimo. È stata l'amministrazione comunale di concerto con i responsabili dell'Enel interpretando il disagio dei commercianti del consorzio Gela Centro a riprogrammare gli interventi rilevanti alla cabina di alimentazione del centro storico in una mattinata in cui i disagi risultino ridotti per il tessuto produttivo del centro gelese. Enel ci ha assicurato uno sforzo tecnico con un raddoppio di personale, ha spiegato il vice sindaco Simone Siciliano in modo da poter tornare a derogare energia elettrica già dal primo pomeriggio di lunedì. In mattinata infatti gran parte degli esercenti rispettano il consueto turno diurno di riposo settimanale. Contestualmente ha continuato l'assessore allo sviluppo economico. Abbiamo già in essere con l'Enel le attività che porteranno a sottoscrivere in tempi brevi il già concordato protocollo di intesa per disciplinare anche queste situazioni regolando così le modalità operative di intervento in città per ridurre al minimo i disagi per l'utenza. Siamo alla cronaca giudiziaria. Cinque arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore a Gela e a Niscemi da parte dei carabinieri e della polizia. Vediamo. Tentano di rubare materiale edile e fili di rame da un impianto di produzione di calcestruzzo in contrata Sambucci del gruppo Missuto a Gela. Scoperti aggrediscono i titolari e fugono a bordo di un'auto. Bloccati dopo un inseguimento da carabinieri del reparto territoriale sono stati arrestati. E quanto accaduto sabato scorso? Le manette sono scattate ai polsi dei fratelli Alferi, storicamente legati alla consorteria mafiosa di Peppu Hierro. Si tratta di Gaetano Davide Alferi, 39 anni, Roberto e Giuseppe Alferi, di 30 e 35 anni. Arrestato anche Alessandro Frasca, di 31 anni. Sono stati i propri fratelli Missuto ad accorgersi della presenza dei ladri all'interno della propria struttura e a chiamare i militari dell'arma. Tra i titolari della cava e due dei malfattori è scaturita una lite cruenta. I proprietari dell'impresa, nella collutazione, hanno riportato una grave contusione alla spalla ed al ginocchio ed una frattura alla mano destra con una prognosi di 30 giorni. Subito dopo la lite, i due ladri sono saliti a bordo di una Fiat Punto, dove all'interno c'erano i fratelli di uno dei due. La macchina è stata intercettata e bloccata dai carabinieri su una strada di campagna. L'accusa per i quattro è diventata rapina impropria. Al termine delle formalità di rito, Gaetano Davide Alferi è stato tradotto nel carcere di contrata balate. Arresti domiciliari per gli altri tre. E la polizia di Niscemi ha arrestato per tentato furto aggravato Francesco Rocconisi, di 48 anni. L'uomo è stato sorpreso nel tentativo di commettere un raid furtivo ai danni di un esercizio commerciale, subito dopo l'orario di chiusura. Aveva già mandato in frantumi la vetrata del negozio. È stato un agente di polizia fuori servizio ad accorgersi di quanto stava accadendo e a chiamare i colleghi. Nisi ha tentato una fuga, ma è stato bloccato ed arrestato. Adesso si trova ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una denuncia per valutare se esistono i presupposti per contestare il reato di falso ideologico per omissione nei confronti dei professori Luigi Zanflorin e Patrizia Livreri, redattore del parere sul rischio salute per la popolazione di Niscemi. È stata presentata dalla comitato Mamme No Muos Caltagirone alla locale procura, per inoltre alla procura di Palermo. L'esposto contro il perno sul quale si sono susseguite tutte le autorizzazioni al sistema Muos di telecomunicazione satellitare militare USA di Contrada Sughereto è stato firmato da Samantha Cinnirella, Monia Laiacona e Marianna Garofalo. È depositato dal loro legale l'avvocato Goffredo D'Antona. Al centro dell'esposto si legge nell'atto i tantissimi dati omessi nel citato parere scoperti soltanto dopo l'audizione davanti alla Commissione Ambiente della Regione il 5 febbraio del 2013, da cui sostengono i denuncianti, emergerebbe come il parere dei professori Livreri e Zanflorin sia assolutamente incompleto e omissivo. Nell'esposto si sostiene che il parere è stato redatto su misurazioni assolutamente insufficienti per addivenire ad una statuizione di non pericolosità sulla salute dell'uomo, tutto su Commissione della Marina USA e non della Regione Siciliana e su dati relative ad un altro impianto installato nelle isole Hawaii. Preso atto di queste omissioni nonché dell'incompletezza dell'atto, affermano Samantha Cinnirella, Monia Laiacona e Marianna Garofalo, nel voler noi mamme tutelare il diritto alla salute e all'ambiente, non solo dei nostri figli ma di tutti, chiediamo all'autorità giudiziaria se questi fatti non siano configurabili e imputabili al reato di falso ideologico in omissione. Porte di velte, armadi e cassetti delle scrivanie scaraventati a terra, documenti sparsi sul pavimento, vetri distrutti, questo lo scenario che si è presentato questa mattina dinnanzi agli occhi dei dipendenti dell'Asp dopo essersi recati negli uffici della Palazzina B di Via Cusmano. Un raid tinte fosche sul quale intaga la squadra mobile di Caltanissetta guidata da Marzia Giustolisi. Ad essere presi di mira dai malviventi i locali dell'economato, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio finanziario, del personale e del patrimonio, oltre alla farmacia, locale quest'ultimo, dove è stato staccato l'allarme, l'unico a quanto sembra presente nell'edificio. Da qui l'ipotesi che chi si è introdotto nella palazzina conosca bene gli uffici, ipotesi che sarà avvagliata dagli investigatori. Distrutti anche i vetri di una Fiat Panda e una Punto, aziendali, posteggiate nel parcheggio del cortile interno utilizzate dal servizio veterinario dell'Asp. Nessun danno alla sala computer, la porta è stata aperta, ma nessuno dei PC è stato portato via. Da una sommaria ricognizione e una prima conta dei danni, infatti, sembrerebbe che nulla sia stato rubato. Le casse forti dell'economato e dell'ufficio patrimonio non sono state manomesse, così come non sono stati trafugati i buoni pasto. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai dipendenti, sono intervenuti i poliziotti delle volanti, della mobile e della scientifica, che assieme al direttore generale dell'Asp, Carmelo Iacono, hanno ispezionato la scena del crimine alla ricerca di indizi utili per incastrare i malviventi e scoprire l'eventuale movente. I ladri potrebbero essersi introdotti nell'edificio dalle scale di sicurezza. Gli edifici di via Cusmana, a quanto sembra, non sono dotati di sistema di videosorveglianza, né via il servizio di vigilanza interno. Primo attestato di solidarietà quello del Presidente della Regione, Rosario Crocetta, che ha espresso indignazione per quanto accaduto. Sono sicuro, dichiara Crocetta, che l'intento intimidatorio degli atti avvenuti questa notte non fermerà il cambiamento in atto, che mira ad offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini. La solidarietà mia e dell'assessore alla salute, Gucciardi, a tutto il management e agli operatori, che, conclude il Presidente, ogni giorno lavorano per migliorare l'efficienza dei servizi, garantendo legalità e trasparenza. Ripongo totale fiducia nelle forze dell'ordine affinché i responsabili di questo vileatto siano presto individuati e consegnati alla giustizia. Queste le parole del Sindaco Giovanni Ruvolo, appena presa la notizia dei danneggiamenti subiti dall'ASP di Caltanissetta. Rammarico del Direttore Generale dell'ASP, Carmelo Iacono, per il vile attentato vandadico perpetrato ai danni dei locali di Via Cusmano, quello espresso ai nostri microfoni. Iacono, nel corso dell'ultima conferenza stamba in tetta per annunciare l'arrivo della PET, che sarà inaugurata domani, 16 febbraio, aveva anche dichiarato ai giornalisti che non si sarebbe fatto intimidire da lobby di potere e avrebbe proseguito nella sua azione di cambiamento. Parole forse scomode per qualcuno. Le forze dell'ordine già sono all'opera, compresa la scientifica. C'è da vedere se questo è un atto fatto da balordi, da tossici, oppure da altre persone che hanno qualche altro interesse. Io non ho nessun elemento in questo senso e sono sicuro che il lavoro che faranno le forze dell'ordine mi auro, porterà ad un buon risultato. È assurdo un atto del genere, ma più di questo commento e più di esprimere il mio rammarico per quello che è avvenuto non sono in condizione di dirvi altro. Tutti i dipendenti sono fuori dagli uffici per consentire alla scientifica di poter fare i rilievi e quindi appena la scientifica ci darà il via, loro rientreranno negli uffici, faranno gli inventari e ci diranno se manca qualcosa. Atti vandalici che arrivano il giorno prima dell'inaugurazione della PES, secondo lei è qualcosa che è concatenato oppure è solamente casuale? Potrebbe essere casuale, potrebbe essere concatenato. Quindi non ho un elemento per poterlo definire. Non vedo come l'inaugurazione di un'attrezzatura così importante possa contrastare con gli interessi di qualcuno. Quindi non ho elementi per poterlo dire. Domani alle 16 si terrà un incontro seminariale con Pietro Di Giovanni presso l'Istituto Comprensivo Enrico Mattei di Via Butera a Gela, diretto da Agata Gueli. L'incontro è previsto e realizzato nell'ambito del piano di formazione e aggiornamento dei docenti. Il professore Di Giovanni insegna storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Palermo, da sempre apposto a confronto il pensiero contemporaneo con il pensiero classico. Negli ultimi anni ha promosso il recupero della filosofia italiana contemporanea con una serie di convegni e seminari di studio. Sta portando a termine una storia della filosofia articolata in quattro volumi. Nel corso dell'incontro di domani il professore Di Giovanni traccerà un breve excursus della scuola pubblica italiana soffermandosi sulle recenti riforme che hanno investito il sistema educativo e formativo del nostro paese. Adesso la nostra consueta rubrica in breve. Vediamo. Consegna di libri e materiale di cancelleria ai detenuti. Si terrà domani alle 10 nel carcere di Contrada Balate a Gela. L'iniziativa è del direttivo del Lions Club del Golfo di Gela. I reperti del mare se ne parlerà nel corso di una conferenza presieduta dal sovrintendente Sebastiano Tusa domani alle 10 nel locale del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, diretto da Angela Tuccio. Saranno presenti tra gli altri Ennio Turco, direttore del museo, e Francesco Cassarino. Continuano gli appuntamenti in occasione dell'82esima stagione concertistica gelese. Domenica 21 febbraio prossimo alle 19 al Palazzo Pignatelli, concerto lirico del trio Angela Curiale, soprano, Fabrizio Capizzi, violino, e Giovanni Raddino, pianoforte. L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà l'imprenditore Antonio Giudice, coordinatore a Gela di Noi con Salvini. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18.00. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, un seminario per parlare dei nativi digitali. Ad organizzarlo è la libreria Mondadori di Gela in via Marconi al numero 25. L'iniziativa si terrà domani alle 18.00. Relazionerà Vincenzo Cascino, docente all'Università Core di Enna e dottore di ricerca e scienze pedagogiche all'Università Marconi di Roma. Adesso parliamo di calcio ed i fatti spiacevoli accaduti sabato scorso a Mondello in occasione della gara Parmonval-Gela finita per 1-1. Il club Biancazzurro preannuncia il ricorso. Vediamo perché. Immediato ricorso in Lega con cui si chiederà la sospensione dell'omologazione del risultato e della stessa partita al fine di far luce su quanto accaduto prima del fischio d'inizio. Il gioco da calcio non ci sta e si è subito attivato per fare valere le proprie ragioni. La partita di sabato scorso a Mondello contro la Parmonval finita 1-1, dunque destinata a finire sul tavolo degli organi competenti, perché la situazione che si è venuta a creare in terra palermitana lascia sbigottiti. Il club Biancazzurro, in una nota diffusa ieri, sottolinea che non si possono accettare le intimidazioni, la violenza prima di una gara e l'agguato premeditato. Parmonval-Gela è stato tutto questo, a cominciare dall'autobus bloccato fuori dallo stadio, all'aggressione fisica nei confronti di alcuni dei nostri giocatori, da parte di persone armate di tirapugni e che avevano la casacca della società che in teoria doveva ospitarci. Passando poi, ribadisce il Gela, alla sottrazione della valigetta contenente tutti i documenti dai nostri tesserati e poi restituita senza i tesserini di tre dei nostri importanti calciatori costretti a rimanere pertanto in tribuna. E poi, che dire, sottolinea ancora il Gela, della presenza di personaggi appartenenti ad altre società del girone, ospitate in maniera comoda, mentre il nostro vicepresidente e il nostro direttore sportivo sono stati costretti a pagare il biglietto d'ingresso. Tutto questo approfittando del fatto dell'assenza delle forze dell'ordine che, preventivamente allertate dalla nostra società, hanno raggiunto lo stadio 20 minuti prima dell'inizio della gara. Tutto questo sotto gli occhi dei commissari di gara ai quali adesso chiediamo di far luce su tali episodi affinché chi ha sbagliato paghi una volta per tutte. Perché è semplicemente inaccettabile subire certe angherie tribali da parte di chi con il calcio non ha nulla a che fare. Certe vicende, se non drasticamente sanzionate, ribadisce il club gelese, potrebbero dar la vinta a chi ritiene che la legge della prepotenza debba prevalere su quella dello sport. Infine, subito dopo la gara, è stata presentata riserva scritta all'arbitro e ai commissari con preannuncio di ricorso, come dicevamo, da presentare in Lega entro oggi pomeriggio sui gravi fatti subiti. Sotto l'aspetto prettamente agonistico, il pareggio in casa della Parmonval è stato attutito dagli altrettanti pari ottenuti dalla San Cataldese in casa con il Castelbuono e dal Dattilo Noir ad Alcamo. In vetta al girone A di eccellenza, dunque, non è cambiato nulla. Comandano sempre in tre. E il calendario domenica prossima prevede lo scontro diretto tra Dattilo Noir e San Cataldese, mentre la formazione di Totò Brucculeri se la vedrà in casa contro il Mussomeli. Potrebbe essere la partita della svolta in chiave promozione diretta. Nel campionato di promozione Atletico Gela a Valanga, sull'Aragona, i ragazzi allenati da Peppe Misiti infatti hanno vinto per 6-0 grazie ai gol di Asha, autore di una tripletta, Scudera, due gol, e Giarrizzo. Ieri al Vincenzo Presti non c'è stata storia tra le due compagini. L'Atletico Gela ha così consolidato il suo quarto posto in classifica con 39 punti assieme al Ragusa. Perde per la quarta volta di seguito invece il Macchitella. I biancorossi sono stati battuti per 2-1 dalla vice capolista Licata. La situazione in graduatoria si è fatta abbastanza preoccupante. Il team allenato da Mirko Fauciana è in piena zona play-out con 22 punti. Il prossimo turno prevede l'impegno tra le muramiche del Macchitella con il Ravanusa e la trasferta in casa della polisportiva Palma per l'Atletico Gela. In Serie D di Calcio a 5 il Gela fa festa, conquistata la Serie C2. Vediamo. Festa in casa a Gela di Calcio a 5. La squadra allenata da Emanuele Ministeri con due giornate di anticipo rispetto alla conclusione del campionato ha ottenuto il passo per approdare in C2 dopo aver dominato in lungo ed in largo il torneo di Serie D. Mancava un punto alla matematica promozione che è arrivata sabato scorso alla fine di punti. Ne sono giunti tre grazie alla vittoria per 7-1 contro la città di Nissolia ottenuta sul campetto in erba sintetica del Presti. Una gara vinta con voglia e merito dalla formazione di casa che ha messo subito sotto gli ennesi dimostrando che la vittoria finale non poteva di certo mancare all'appello proprio davanti ai numerosi tifosi di Fede e Biancazzurra. Siamo in un campionato che abbiamo fatto una lotta contro tutto e tutti. Sarà il blasone, sarà il nome, non ci ha regalato niente a nessuno. Squadra ultima in classifica, penultima, facevano l'evento, lo cantine, ci facevano la guerra in campo. Abbiamo vinto e l'abbiamo meritato, lo posso dire a voce alta, l'abbiamo meritato contro tutto e tutti. Il merito a chi va? Al gruppo, un gruppo eccezionale, il gruppo più bello che abbiamo allenato. Che campionato è stato il suo tra quelli che ha vinto lei? Il più bello, il più bello in assoluto. Sarà avere una società alle spalle come il nome Gela Calcio. Io sono stato e sono attualmente un grande tifoso. Vincere con la squadra che tu tifi da bambino è un'emozione unica che grazie a Dio sto provando oggi. Il prossimo anno in 16-2 con altre due squadre gelesi? Eh sì, ci siamo abituati. I problemi non sono miei, ce li giocavo in campo, cercheremo di sistemare qualcosina per fondare sempre in alto. Camminate mediocre non è da me. Questa è la rosa che ha vinto il campionato. Nicola Frejica, Nuccio Cauchi, Nicola Guerreggiante, Giovanni D'Alessandro, Giovanni Monfrey, Andrea Maugeri, Giovanni Caffà, Dario Moscato, Rocco Amato, Emanuele Maganucco, Emanuele Cavenio e Giacomo Faldelli. Un'emozione indescrivibile. Vincere un campionato con due giorni d'anticipo, una cosa senza parole veramente. Che campionato è stato questo gelacalcio nel campionato di Serie D? È stato un campionato dove ho trovato dei compagni di squadra che sono più di compagni una famiglia. Trasferte bruttissime, però è stata una soddisfazione immensa. Un gruppo unito, un gruppo fatto da ottimi giocatori che è riuscito a portare a casa questa bella vittoria. Sicuramente, oltre a studiare negli allenamenti già da settembre fino ad oggi, abbiamo dato anima e cuore per questa maglia che la oneriamo per sempre perché ce le portiamo nel cuore questi colori. Una dedica per questa vittoria? La dedica al mio mister Emanuele Ministeri che è stato per me come un padre, oltre ad essere un allenatore, abbiamo condiviso molto insieme. C'è l'informazione cinematografica e Franni con Richard Gere, il film in programmazione al Cineteatro Antiduto di Macchietta e la Gena. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che notizie e servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Buon inizio settimana a tutti, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.